La presoterapia è un trattamento medico ma anche estetico. Viene effettuata attraverso uno strumento opposto, un apparecchio opposto. È uno strumento elettromedicale? Sì, viene usato solitamente negli studi medici ma anche estetici perché nel tempo ha acquisito una notevole importanza anche per altre applicazioni che vengono utilizzate. Ad esempio nel nostro centro massifisoterapico si utilizza anche per defaticare i muscoli, per gli sportivi ad esempio. Dopo ad esempio una grande attività fisica inoltrata nel tempo aiuta a defaticare molto le gambe degli sportivi. Quindi dottor Bloise, come si svolge? È semplice in quanto c'è un apparecchio con un computer all'interno che ha già inserito all'interno dei programmi ben specifici. L'operatore cosa fa? Praticamente attraverso dei gambali se parliamo degli arti inferiori perché spesso la ritenzione idrica o alcune disfunzioni avvengono sugli arti inferiori. Quindi vengono applicati proprio dei gambali che hanno spesso cinque zone ben separate, quindi dal piede che arrivano fino alla zona inguinale della gamba. Quindi non si rivolge solo alle gambe ma anche altre parti del corpo. Esatto. Quello che vediamo alle nostre spalle è un esempio, sono questi gambali che vengono infilati. Corretto. Sì, poi può essere utilizzato anche per l'addome, molto spesso succede anche per quello che aiuta poi anche il processo digestivo e aiuta tante funzioni anche dell'organismo e dell'intestino stesso. Oppure anche sulle braccia ci sono proprio dei tubi che vengono inseriti anche nelle braccia. Per quanto riguarda le gambe, come dicevamo prima, ci sono proprio cinque zone specifiche. Quindi partono dal piede, caviglia, ginocchio fino ad arrivare alla parte inguinale della coscia. E lì ci sono dei tubi che sono collegati a questi cuscini, questi cuscinetti, che vengono riempiti d'aria. E questi provocano proprio una pressione dal basso verso l'alto e questo aiuta il funzionamento proprio circolatorio e linfatico. Quindi sia per quanto riguarda la circolazione sanguigna che per quanto riguarda la circolazione linfatica.